Mi piace avere questo dialogo con la storia umana, perché quello che più mi interessa è il dialogo filosofico sulla vita e su come poter avere una vita più piena e interessante. Ad esempio, tramite questi riferimenti al nostro passato, voglio dire come ci poniamo davanti alla sensualità, cosa pensiamo del sesso, cosa pensiamo della nascita, che cosa significa essere vivi, che cos'è la morte. Questo è il dialogo che credo emerga da queste opere. Le persone parlano della superficie, ma è la superficie che ti rende più suscettibile a questo tipo di riflessioni sulla vita stessa. Grazie per la visione!